e rieccoci nuovamente insieme ospiti di vr camper io mi trovo a druento in via volta 29 naturalmente il mio benvenuto va a lui il volto ufficiale insomma la mia guida all'interno di vr camper fabio carnino ciao come stai buongiorno sonia buongiorno a tutti tutto bene grazie il prodotto non manca non c'è che l'imbarazzo della scelta i marchi sono tanti in primis eimer il vostro marchio storico però so che in questo periodo le offerte sono particolari perché sono molte le offerte sono anche molto particolari partirei dal cuore del camper ovvero la batteria quello che ci permette oggi di vivere a pieno il nostro veicolo ricreazionale parliamo di batterie molto efficienti passiamo dalle batterie agm di vecchia generazione ma molto valide a batterie molto più performanti molto più leggere al litio quindi venite qui in sede da noi via volta 29 a scoprire queste offerte che partono appunto dalla batteria per poi arrivare a tantissimi altri accessori quindi venite a trovarci naturalmente non solo gli accessori in primis ovviamente i veicoli ricreazionali che sono molto importanti e che hanno delle ottime opportunità d'acquisto anche perché i tassi in questo periodo sono particolarmente agevolati oggi questo avverbio mi piace è vero è vero hai proprio ragione parliamo di una tabella di finanziamenti estremamente agevolata cosa che in questo periodo come molti sapranno non sono facili da trovare ma qui da vr camper la troverete quindi venite a trovarci a scoprire qui con noi la rata che più idonea alle vostre esigenze e non dimentichiamo naturalmente il noleggio per esempio sui furgonati perché non provarlo prima di acquistarlo qui da vr camper abbiamo diverse soluzioni dai più piccoli ai più grandi parliamo di un busner lineo un veicolo estremamente compatto con due misure principalmente un 5 metri e 50 oppure un 5 metri 99 su meccanica ford cambio manuale cambio automatico soluzione ideale per la coppia e perché no anche una terza persona che si aggiunge per un fine settimana e parliamo dello stesso segmento destinato all'avventura off-road ma cambiamo brand carado si è un carado 5 metri e 90 soluzione su meccanica ford estremamente compatta un 5 metri e 90 di lunghezza caratteristica e peculiarità è sicuramente la meccanica con trazione integrale 4x4 quindi per gli amanti dell'off-road e delle strade non del tutto asfaltate sicuramente lui è un'ottima soluzione propone un letto matrimoniale posteriore una predisposizione del pannello solare un tendalino già montato che ci permette di viverlo anche fuori veicolo decisamente molto ben strutturato con la sua piantina all'interno che permette anche la trasformazione della dinette per ottenere un terzo letto per un terzo ospite sono 20 minuti che girerò per il concessionario ero sicuro di trovarti sul cross camp beh e tu lo sai no che comunque a me piace esplorare soprattutto comprendere come un mezzo così compatto possa veramente avere di tutto ma quattro posti letto ha assolutamente sì ti permette di a volte anche di sostituirlo alla seconda autovettura che molti di noi hanno in famiglia parliamo di un'altezza massima di 2 metri e 10 quindi qualora volessimo andare a fare la spesa lui passa perfettamente sotto la barra del supermercato quindi perfetto per unire l'utile al dilettevole beh se posso andare a fare la spesa sono a posto no beh questo mi piace di più è un ecovip laica posso veramente fare il turismo itinerante andare dove voglio tutti i comfort possibili e immaginabili ed è maestria artigianale italiana per la qualità che vedo parliamo di un laica parliamo di un veicolo dove il comfort è sicuramente alla base di tutto piantina estremamente molto ben conformata parliamo di due letti gemelli posteriori un ampio letto basculante che scende sopra la dinette su cui siamo seduti quindi venite a trovarci per comprendere effettivamente quella che è l'essenza del vero camper sono tanto brava a parlare ad apprezzare la qualità entro dentro guardo esploro però io non ho mai guidato un camper e quindi voglio farlo so che vr camper vi permette di provare i vostri camper anche perché uno vuole capire no cioè la meccanica la guida la tenuta di strada non so la telecamera che ti permette di vedere dietro quando voglio vedere adesso quando lo metto in moto che cosa succede no no assolutamente lo devi fare e te lo permetto assolutamente vedo che hai percepito tutta una serie di comodità che i nostri veicoli sono dotati sin dall'origine parliamo di una meccanica estremamente performante parliamo di mercedes 170 cavalli cambio automatico una videocamera che appunto ci permette di posizionare il nostro veicolo in fase di manovra al meglio e di avere tutto sempre sotto controllo per non parlare poi di tutti i radar e i sensori di sicurezza che ormai sono alla base di qualsiasi meccanica sia mercedes che fiat che ford quindi qui da vr camper vedete che sono tantissime le cose da vedere da toccare con mano e soprattutto da provare quindi venite a trovarci perché i tariffari del noleggio attuali sono stati rivisti quindi abbiamo anche la possibilità di utilizzare un veicolo piccolo medio grande non solo per lunghi periodi la settimana e dieci giorni ma bensì anche per i fine settimana quindi i due o tre giorni da provare da toccare con mano e perché no andare al mare o in montagna come volete e non dimentichiamo una vasta esposizione di veicoli ricreazionali d'occasione l'occasione si fa per dire per esempio questo è un mezzo praticamente nuovo sì parliamo di un immer trump 614 del 2014 pochissimi chilometri percorsi un letto matrimoniale posteriore letto basculante bagno con doccia separata a soli 63 mila euro vr camper nel parco dell'usato non significa solo semi integrali ma bensì anche motorhome di fascia alta un knaus vani 600 letti gemelli posteriori 6 metri 99 la lunghezza totale letto basculante pochissimi chilometri pari al nuovo 62 mila euro moltissimi anche i mansardati nel nostro parco usato un laica eco vp1 classic doppio pavimento del 2007 con pochissimi chilometri generatore veranda tendalino pannello solare tantissimi gli optional 39 mila euro grazie a fabio carnino ma non avete visto abbastanza dovete assolutamente venire qua in via volta 29 a druento e toccare con mano la qualità di questi prodotti provarli anche su strada assolutamente sì quindi prenotate la vostra prova su strada consultate il nostro sito costantemente aggiornato sia sul parco del nuovo che dell'usato e venite a trovarci perché ne abbiamo veramente di tutti di tutti i gusti bene io ti ringrazio ringrazio voi per l'attenzione come sempre linea la regia grazie a tutti